Dopo alcuni giorni di stallo nella quale Milan e Lazio stavano decidendo la formula finale dell'affare, è arrivata anche l'ufficialità. Lucas Biglia saluta i biancocelesti per approdare nel nuovo centrocampo del Milan, un affare che si concretizzerà per una cifra totale di 17 milioni di euro e già qua si può dire che è un grande affare per il Milan perché ha preso un giocatore molto esperto, molto valido, capace di far ambientare bene giocatori più giovani come Chessy, parlando ovviamente del reparto dei centrocampisti, ad una cifra neanche troppo elevata. Si parlava di 20 milioni e sono arrivati addirittura a scendere di 3 milioni. Non era certo il problema dei soldi per il Milan, però ovviamente se tu spendi meno soldi sicuro hai meno problemi qualora a fine stagione non raggiungi i tuoi obiettivi. Io qualche settimana fa, anzi diciamo un bel mesetto fa, feci un video sul suo possibile arrivo in cui vi parlai specificatamente delle sue caratteristiche tecniche. Ve lo ripeto velocemente anche in questo video, è un giocatore centrocampista molto bravo nei tiri della distanza, nel servire assist ai compagni, nel gestire il gioco, nel gestire bene tutto il proprio reparto e proprio per questo motivo per me il Milan ha fatto un bel affare. Mi volevo concentrare su questo video però sul suo punto di vista prettamente professionistico e sotto questo aspetto vi invito anche a vedere il video che ha fatto il mio amico Alfred su questo argomento intitolato Biglia, quando è che te ne vai allora? Biglia come ben sapete negli ultimi anni è stato il capitano della Lazio e diciamo uno dei giocatori più rappresentativi sia fuori che dentro il campo, sia per le qualità tecniche che mostrava e sia per l'amore che sembrava mostrare per i colori bianco celesti. Allora per me non è tanto il fatto di essere andato in un'altra squadra perché i giocatori bandiere come ben sappiamo ne esistono pochissimi all'interno dell'ambiente del calcio moderno, attualmente trovarne di bandiere che rimangono per 8-9 anni è veramente difficilissimo, quindi non mi dà tanto fastidio parlando d'esterno il fatto che sia andato in un'altra squadra. Però mi dà fastidio il fatto che questo avvenga dopo aver baciato la maglia, dopo aver giurato amore eterno e soprattutto dopo una situazione che un vero capitano non dovrebbe provocare. Se tu sei diventato il capitano di questa squadra e vuoi andare in un'altra squadra va benissimo però secondo me ti devi assumere le tue responsabilità. Non è possibile che tu fai sempre il silenzioso e non lo so non vado al ritiro, forse ci vado, non lo so non rinnovo. Queste situazioni a me danno veramente tanto fastidio, come l'ho detto anche nel caso di Donnarumma mi sembrano veramente una grande presa in giro nei confronti dei tifosi. Se tu te ne vuoi andare dillo subito, abile palle di dirlo davanti a tutti, no io me ne voglio andare, voglio provare una nuova esperienza, voglio andare in un Milan che sta facendo una bella squadra per tornare nei piani alti in Italia e in Europa e pace, ok. Sono sicuro che i Laziali l'avrebbero presa molto meno peggio, se così si può dire, rispetto a quello che è successo attualmente perché hanno visto un giocatore che prima ha giurato amore alla squadra, poi in silenzio, senza forza per niente, andando in ritardo al ritiro, cioè permettendosi anche di andare in ritardo al ritiro della Lazio soltanto perché non vedeva l'ora di andarsene via. Per me è un atteggiamento un po' da vigliacco e che un capitano non dovrebbe avere, già non dovrebbe avere un giocatore normale, cioè non è un capitano eccetera eccetera, ma soprattutto se tu hai rappresentato la tua squadra per tanti anni, sei diventato un idolo dei tuoi tifosi, sei diventato una di quelli che potevano diventare una bandiera, il minimo che può fare non è rimanere a vita, però quantomeno essere onesto e coerente quando decidi di andartene. Il Milan acquisisce così un fortissimo centrocampista, esperto quanto basta e che conosce molto bene il campionato, sotto questo punto di vista vuoi fare i complimenti al Milan perché ha fatto una squadra non solo forte e competitiva da qui per i prossimi anni a venire, ma l'ha fatta soprattutto con giocatori che conoscono bene il campionato italiano. A parte qualche acquisto fuori Italia, che comunque ci sta perché non è che si possono prendere tutti i giocatori della Serie A, ha fatto dei acquisti mirati e veramente molto molto forti. Ovviamente questo può sembrare tutto rosa e fiori, però ovviamente questo si deve riversare fin da subito con i risultati sul campo perché la rosa è stata fatta. I milioni sono stati spesi e probabilmente ne verranno spesi anche altri per sistemare il reparto offensivo, visto che questi cinesi non sanno neanche da dove li prendono questi soldi. Però, come ci ha insegnato il prefinanziario, come ci hanno insegnato queste regole, una squadra non può spendere miliardi di miliardi di miliardi, incassarne un decimo e non qualificarsi almeno in Europa. Il Milan l'anno prossimo deve necessariamente per me arrivare almeno in Champions League perché qualora non ci arrivasse sarebbe un disastro sotto tutti i punti di vista. Se dal punto di vista calcistico, perché dopo tutti questi acquisti il minimo che devi fare è ritornare in Champions League, almeno secondo me. Se dal punto di vista comunque societario, perché ci sarebbe un calo drastico degli ricavi e la situazione potrebbe degenerare, diciamo. Potrebbe passare dall'essere troppo felici all'essere disperati. Ovviamente io non è una cosa che auguro perché anche le mie ragazze del Milan quindi non ho questo odio particolare verso i rossoneri, però è normale, se una squadra rivale in campionato si rafforza così tanto, è normale sperare che non faccia così bene a continuare così. Per quanto molti sperano che le milanesi tornino al centro del campionato italiano, io da romanista spero che ci continui ad essere nella Roma, nella speranza che saremo noi, ormai speranza che non so se considerare vanno o meno, a fermare il dominio della Juventus. Fatemi sapere nei commenti voi che se ne pensate dell'acquisto di Biggla da parte del Milan e del suo comportamento che ha avuto nei confronti dei difusi biancocelesti. Ci vediamo presto per un altro video, un saluto e sempre forza Roma. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!